Sono Nicola e oggi siamo in un nuovo video, ragazzi, è molto breve per informarvi che siamo in Sardegna No, siamo in Africa Siamo in Africa, sì, ovviamente siamo andati in Africa Due giorni fa Vi faccio vedere il mio fratello La faccina Voglio vedere la faccina, dai, la tua piccola faccina Ragazzi, state tranquilli, siamo ancora vivi Faremo ancora i video Comunque, ragazzi, lasciate like per questo mini video Iscrivetevi al canale Ciao ragazzi E iscrivetevi per la sua Ciao Ragazzi, magari se riesco domani faccio il video sulle due Ciao